ELECTROM HILAND D'UNCIÄM 5 D' presented tu time 5 10 C'était super cool Tout le monde était trop cool e in realtà le persone sono fos in Italia bravo fantastico e l'Italia è un mercato che è receptivo o è particolare per te in realtà tu non comprends che ho detto le persone sono fos in Italia e ti ho domandato tu non comprends le persone sono fos in Italia le persone sono fos in Italia la tua musica è particolare perché la musica è un elemento di novità e la musica è un elemento di novità è un elemento di novità ovviamente non mi piace la musica senza la musica non mi piace la musica quindi ho bisogno se fosse solo di beat techno mi piace la musica ragazzi quindi io 콜라 ho bisogno lavoro ho bisogno journey Soprattutto e caso емся la cosa per poco ilbere ilvesse tutto Perため in paris, in france, in itali e in Italia ma sì, in più, io amo l'Italia, perché? perché ogni volta che andiamo in Italia mangiamo la pizza e la bufala e sono molto contento e sono molto contento ovviamente mi piace la tua musica e Mini Cool Boys sono qui con noi adesso posso riprendere la mia lingua normale e sei qui con due monstri sacri Toxic Avenger quante volte li hai ascoltati e visti tu? ne ho visti una cifra di volte ed è emozionante loro sono particolari sono molto particolari lui è molto simpatico posso dirlo è anche un po' drunk adesso adesso è anche un po' drunk anche? un pochino però voglio dire che DJ come me non ce ne sono in giro posso dirlo lo dici tu o lo dici il pubblico e di conseguenza? lo posso dire il pubblico e i miei amici questo poco mi è sicuro è un po' che che il pubblico è un po' che che il pubblico è un po' che è un po' che